Michele Balestini, che prima stava con noi e adesso si è ammollato, forse tradito, quell'infame. Ok, parlatevi un po' di prego, qual è il problema? Grazie a tutti. Lei è uno psicologo per tuffie, vero? Io e mio marito avremo bisogno di una seduta. Fogliamo le mie mie di caso!